I carabinieri della compagna di Ierzu, sopportati dai militari dello squadrone riportato a cacciatori di Sardegna dal nucleo cinofili di Abbasanta, nell'ambito dei controlli per il contrasto della produzione di droga, hanno tratto in arresto e in flagranza di reato due persone, un allevatore 44enne di Ierzu e un 24enne originario di Tortoli. I militari hanno effettuato una battuta in località Pizze e Monti, in agro di Ierzu, e dopo aver raggiunto un'ofile, hanno fermato i due soggetti che tentavano di allontanarsi da alcuni edifici adibiti al rifugio di animali. All'interno i carabinieri hanno trovato 955 piante di cannabis indica, tagliate e già predisposte per l'essicazione, ma anche i ventilatori e diverso materiale per la produzione della marijuana. Su disposizione della Procura della Repubblica dell'Anusei, una parte della sostanza stupefacente è stata campionata per le analisi di laboratorio, mentre gli arbusti sono stati dati alle fiamme. Al termine delle formalità di rito, il 44enne è stato rinchiuso nel carcere dell'Anusei, mentre il 24enne è stato ristretto ai domiciliari. Entrambi dovranno rispondere al reato di coltivazione di sostanza stupefacente.